dopo la pausa di ieri con chiusura sotto 1.36 l'euro riprende vigore riprende forze addirittura adesso punta 1.37 ed è in corso il test di questa resistenza dinamica l'ultimo stacolo prima di quella statica in area 1.38 la famosa resistenza che è stata testata più volte nella seconda parte del 2013 così come si può vedere da questo grafico c'è stata anche un'escursione fino a 1.39 per poi rientrare tutto a fine giornata addirittura chiusura quasi 150 pips dal massimo intraday e quindi adesso l'euro che aveva già provato a superare questa resistenza dinamica l'altro giorno martedì esattamente adesso ci sta quindi sta facendo questo nuovo tentativo vedremo se andrà a buon fine o meno euro che come spesso sto facendo vedere adesso nelle ultime video analisi non solo i cambi contro dollari ma quelli minori che non sono appunto contro la moneta usa e c'era da segnalare per esempio la buona intonazione dell'euro contro l'australiano che quindi è supportato dall'andamento dell'euro contro dollaro e dal calo dell'australiano contro il dollaro americano in seguito ai dati sull'occupazione pubblicati questa notte durante la sessione asiatica che sono stati molto negativi e quindi eur audi che da ieri sul supporto in area 1.50 è già rimbalzato di 150 pips e adesso è in fase di test di questa resistenza dinamica occhio alla sterlina che sale prepotentemente verso la resistenza in area 1.66 e 32 siamo quindi come potete vedere da quello che è stato il supporto toccato giusto qualche giorno fa in area 1.6275 quindi ben oltre i 300 pips di guadagno e quindi come avevo fatto notare nelle ultime video analisi anche questa volta si è ripetuto si è rivisto il film di sterlina dollaro che prova c'è prima font test della resistenza ritracciamento correzione a quel punto sulla resistenza precedentemente violata che fino a qui era appunto un livello di resistenza poi una volta violato diventa supporto e da quel supporto poi c'è stato lo spunto per ripartire al rialzo e a questo punto ha poche possibilità di tenuta questa resistenza in area 1.66 e 32 consiglio è di monitorare eventualmente più quella che si trova più in alto di 100 pips una figura circa e quindi sterlina che davvero non conosce sosta questo rialzo che dura oramai dal luglio e in caso di violazione dobbiamo tornare indietro nel tempo a maggio 2011 vedete la resistenza che aprile aprile maggio 2011 e poi successivamente giusto per vedere la situazione ancora più indietro nel tempo il successivo livello in area 1.70 e 30 ma a questo punto vedendo in base a quello che è accaduto in passato probabilmente ci sarà il superamento di questa resistenza e una pausa ci sarà qui con probabile ritracciamento e poi da lì vedremo se ci sarà l'ennesima ripartenza al rialzo questa mattina ci sono movimenti interessanti sul mercato delle valute anche il dollaro yen dopo aver sostato su questa resistenza di brevissimo in area 102.50 in questo momento come vedete sta venendo sotto sta perdendo quota 102 ho già sottolineato in passato la stretta correlazione con il mercato azionario con lo standard in pur 500 l'indice americano che in questo momento sta preannuncia una apertura negativa anche lo stesso indice nike giapponese ha chiuso con quasi due punti percentuali la seduta e quindi anche si stanno vedendo quindi gli effetti anche sul dollaro yen con questa ritorsione questo trend all'indietro quindi questo movimento al ribasso che sta spingendo adesso il dollaro yen al supporto in area 101.20 a questo punto vediamo anche la situazione contro l'euro anche qui fallito il test superamento di questa resistenza dinamica e quindi non è riuscito a terminare la seduta sopra quota 140 e adesso vedete siamo verso 139.30 quotazione di euro yen e qui invece per trovare un supporto deve farne più di strada rispetto al dollaro yen perché c'è questo supporto dinamico verso 137 e poi in area 135.80 quello statico non c'è molto da dire sul loro ieri aggiornato il massimo dell'anno a 1296 dollari quindi procede a piccoli passi verso la soglia psicologica dei 1300 dollari siamo arrivati siamo tornati sui livelli di novembre 2013 oggi qualche vendita qualche presa di beneficio ma da un punto di vista grafico c'è spazio per una salita fino al livello in area 1355 dollari grafico c'è spazio di avere un'att girdaKahata grafico cotto